Effetti collaterali. Un titolo emblematico per la tavola rotonda voluta da FIOM, CGL Abruzzo e Molise che questa mattina a Pescara, nell'auditorium Petruzzi, ha alimentato il dibattito sulle conseguenze della guerra in Ucraina. Un argomento da trattare con tutte le coordinate del caso, come ha ricordato Luciana Castellina, fondatrice del manifesto e presidente onorario Arci, senza tacere le debolezze del pensiero occidentale. E quindi però c'è la sottovalutazione perché non si rendono conto che militarmente non può vincere né uno né l'altro, la guerra si protrarà chissà quando e le tecnologie oggi sono tali per cui il nucleare non è più deciso da due presidenti che per quanto sia si parlavano al telefono rosso, ma può essere sparato da un ragazzo ucraino così come ancora peggio da un foreign fighter stico pieno all'Ucraina perché ormai il nucleare sta nelle armi a cortoraggio, nelle armi tactiche, fra un po' nelle rivoltelle. Quindi può essere usato in qualsiasi momento. A quel punto stiamo dentro una guerra che non solo non finisce più, ma porta a una devastazione. Morti e morti per fame, peraltro, perché bisogna mettere ormai nel calcolo anche le vittime della fame. E se si tiene conto anche di quelle vittime di cui all'Occidente non frega niente, allora la cosa è molto grave. Dalle dinamiche geopolitiche di largo raggio alle variabili economiche e sociali più facilmente identificabili e immediate che sollecitano interventi mirali. Di 26 mila persone già rischiano nell'immediato la gassintegrazione, riguarda il sistema delle imprese ovviamente, e riguarda il caro energia, perché noi dipendiamo nella misura del 40% del gas russo, il governo italiano pensa di ovviare a questo problema rilanciando la produzione nazionale di idrocarburi, e poi c'è la questione dei migranti, perché il mancato approvvigionamento dei beni primari dell'agricoltura spinge alle migrazioni, non mi riferisco soltanto alla protezione temporanea che stiamo accordando ai migranti dell'Ucraina, ma mi riferisco ai paesi più poveri che subiranno tutto questo. Interventi necessari e condivisi, ma anche riflessioni da mettere in campo tra i più giovani, affinché si possa crescere insieme e ribadire il concetto di istituzione come il lavoro, che la guerra in ogni caso non potrà svuotare nel suo senso. I lavoratori italiani stanno pagando anche il prezzo con l'aumento dell'inflazione. Ecco, noi pensiamo che con l'aumento dei salari e con la lotta contro la guerra possiamo costruire un futuro migliore per il nostro paese. Erano presenti in remoto anche Antonio Padellaro e Simone Pieranni.